Musica Buonasera, ben ritrovati con una nuova edizione flash del telegiornale di Venezia. Iniziamo con il bollettino i dati resi da Azienda Zero sui nuovi contagi da Covid-19 riferiti al 5 luglio ore 8. Sono 12.206 nuovi casi in Veneto con 585 pazienti ricoverati e 25 che versano in gravi condizioni. Padova, rispetto a ieri, ha registrato più 2.638 nuovi contagi, seguita da Treviso con un più 2.204 e Venezia con un più 2.051. Sono 7 le vittime di cui 3 identificate, questo il bilancio provvisorio della tragedia che ha interessato il ghiacciaio della Marmolada. 8 i feriti trasferiti negli ospedali di Trento, Bolzano, Belluno, Feltre e Treviso. 2 sono in gravi condizioni. Sembrano essere 13 le persone che ancora mancano all'appello. Le autorità stanno accertando la proprietà di 4 delle 16 auto parcheggiate nei pressi dei sentieri. Tutte con targa straniera, una tedesca, due cieche e una ungherese. Continuano le ricerche. Ufficializzata la giunta comunale di Jesolo guidata dal sindaco Christopher Dezzotti. 5 su 6 i componenti incaricati, mentre il sesto riceverà l'incarico giovedì. Sarà un tecnico a cui andranno le deleghe al turismo, al demagno marittimo e alla comunicazione. Luca Zanotto sarà vince sindaco. Martina Borin, edilizia privata, pari opportunità. Alessandro Perazzola, i lavori pubblici, i servizi manutentivi, i trasporti, COSAP. E da Boragonella, le politiche sociali, istruzione e cultura. L'Ulstress Nenissima continua con la campagna vaccinale, non solo contro il Covid-19, ma anche contro l'herpes zoster, comunemente detto fuoco di Sant'Antonio, contro lo pneumococco e contro il tetano, a cui si associano quelle per differite e per tosse. Queste vaccinazioni sono rivolte a persone tra i 65 e i 69 anni. La chiamata l'hanno ricevuta tutti i nati dal 1953 al 1957, circa 38.000 persone. Un bagno serale in laguna. Quattro turisti si sono completamente svestiti e buttati nelle acque del Canal Grande. Sono stranieri e probabilmente hanno alzato troppo il gomito. I passanti hanno chiamato le forze dell'ordine, ma loro si sono dileguati. Nella notte scorsa a Chioggia ha perso la vita un sedicenne. In base alle prime informazioni sulla dinamica dell'incidente, il giovane si trovava tra Viale Mediterraneo e Via Morosini. Stava attraversando sulle strisce pedonali a bordo della sua moto. Sarebbe stato travolto da un Fiat Doblò perdendo la vita. All'hotel Villa Orio Beatrice agli Alberoni, da giovedì 7 luglio a domenica 10 luglio, con l'intento di promuovere e valorizzare il cinema, ogni sera interverranno tanti autori, tra cui Salvatore Esposito e Gianfranco Gallo di Gomorra, ma anche Matteo Paulillo, Marefuori, Sara Maestri, per la notte prima degli esami e tanti altri. L'iniziativa si chiama Sorridendo Film Festival. Tutti gli introiti saranno devoluti alla causa della Sorridendo Onlus per l'abbattimento delle barriere architettoniche della spiaggia Bagni-Alberoni e per la messa a disposizione di nuovi mezzi per l'accesso anche alle persone diversamente abili. Grazie a tutti.